Monica, ma è vero che ti hanno letto piede dell'anno 2014? Sì, è vero, mi hanno letto piede dell'anno 2014, infatti come vi posso dimostrare, questa scarpa è un decoltè, un mezzo stivaletto, una zeppona Questo è firmato? Sì, è firmato Dottor Schox Dottor Schox, è fortissimo, le scarpe del Dottor Schox sono fantastiche Fa ricordare quelle serate sul cubo, dai dai Puoi ballare un attimo per farvi vedere come balli sul cubo Dai 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 sono molto, si può ballare, si può girare, si può fare la capriola ed anche in compagnia